la sera dopo la partita buongiorno ragazzi per chi volesse iscriversi al canale ed attivare la campanellina perché è fondamentale per le live improvvisate che vengono fatte in questo canale iscrizione gratis e l'attivazione della campanellina attivate tutti i suoni vibrazioni e quant'altro condividete il link del canale dei chiesonerati sempre se vi fa piacere sui vostri gruppi whatsapp telegram ovunque perché questo canale vuole arrivare a diecimila iscritti certificati anche perché questo è un canale che ha numeri di gran lunga superiore ad un canale di circa novemila iscritti dovremmo averne trenta quarantamila quindi io ci metto noi ci mettiamo la nostra volontà poi tocca anche a voi fare un clic prendi il mouse fai un clic vedi e ti iscrivi al canale allora io penso e penso che a volte bisognerebbe mettersi lì ragionare un po' più magari meno a caldo un po' più a freddo perché io ieri sera ho sentito dei commenti generosi ho sentito criticare turam ma sai il fatto che qualcuno critichi turam lo critica chi di calcio non sa nulla chi magari turam viene criticato da gente che a malapena sa come funziona la vita in generale non sanno nulla della vita pensa cosa possono sapere del calcio delle motivazioni dello sport che se gente non sa nulla anzi tra l'altro ragazzi voglio fare un appello siccome mi hanno chiesto di farlo non prestate soldi su youtube non prestate i soldi se vi chiedono soldi in prestito non dategli lì perché mi hanno raccontato delle cose bruttissime non posso dire non prestate soldi se qualcuno su youtube vi chiede soldi non prestategli lì anche perché poi dopo non ve le ridanno più chiusa parentesi turam l'ho sentito criticare da gente di calcio non ci capisce niente molto maniera molto spiccia anche perché poi dopo ieri sera ai partiti abbiamo visto tra l'altro le critiche ci stanno io sono uno dei primi che critica quando c'è qualcosa che non mi piace però criticare questa squadra secondo me vuol dire avere una visione distorta della reale situazione e soprattutto vuol dire avere una visione distorta di come è composta questa squadra perché questa è una squadra che ha 14 giocatori che ha offerto il miglior calcio d'europa se non il migliore tra i migliori tra la migliore cioè come qualità tra le migliori in europa mettiamola così in italia ha devastato un campionato contro squadre che hanno investito 200 milioni per il mercato io vorrei capire che cosa si pretende da questi ragazzi anche perché non sono dei cyborg la stanchezza mentale la stanchezza fisica incontri una squadra che ha un giorno in più di riposo ci sono tantissime componenti no che poi dopo fanno sfociare delle prestazioni come quelle di ieri che prestazione l'estata ieri è stata una buona prestazione una squadra che era sul pezzo una squadra che comunque eh doveva doveva si meritava tranquillamente la vittoria perché Napoli non me lo ricordo un tiro in porta del Napoli tranne la palla allungata di bastoni che va a one jesus non mi ricordo nemmeno un tiro del Napoli quindi di cosa stiamo ragionando abbiamo visto un inter ieri simili a quella dell'anno scorso dove c'erano tutti quei fuori classe davanti no dove l'anno scorso avevamo tutti quei fuori classe davanti noi quest'anno abbiamo ieri abbiamo visto la stessa inter dell'anno scorso sprecona davanti soprattutto che crea tantissimo e che finalizza poco prendiamo un gol su un calcio d'angolo dubbio tra l'altro perché bastoni involontariamente prolunga la traghettura della palla arriva one jesus e la butta dentro ma il Napoli non aveva mai tirato in porta turam e lautaro è assolutamente vero e sono in forte calo ma questi due ragazzi hanno le hanno dovute giocare tutte hanno giocato con delle infiltrazioni sia lautaro e turam questo non te lo dice nessuno te lo dico io perché hanno dovuto giocare anche con delle infiltrazioni perché hanno dovuto giocare su dei piccoli infortuni perché hanno dovuto accelerare la ripresa dagli infortuni perché dietro c'è il vuoto non c'è nessuno in grado di sostituirli al 30 per cento e siccome non sono cyborg questi ragazzi ma sono fatti di carne e sangue o meno noi è normale ci sia un calofisio come quelli che criticano chi sbaglia il rigore lo critica chi non ha mai giocato al calcio perché te dopo 120 minuti con tutta quella tensione hai dovuto assimilare a livello celebrale con tutta la stanchezza con le gambe ti pesano 20 kg l'una prendi la palla arrivi davanti alla porta e più ti avvicini più cammini e più la porta ti si rimpicciolisce non è facile anche battere il rigore anche io ho sentito tante ritie non è facile lo dice chi non ha mai giocato a calcio e hanno sbagliato il rigore non è semplice battere un rigore non è una roba da nulla fidati i due attaccanti dell'inter nonostante i termini di risultati sia la l'attacco migliore della serie a tra le coppie di attaccanti più forti d'europa sono due attaccanti atipici un po meno lautaro parliamo di turam sono attaccanti e per fare gol devono fare un lavoro massodontico perché certi movimenti non ce l'hanno il dna quindi per fare gol devono faticare di più rispetto ad un nuovo eclassico che sta lì gli passa una mosca e te la butta dentro c'è da dire anche questo ragazzi ma vogliamo ritirare i numeri di lautaro martinez e di tikus turam io ieri ho sentito ritirare turam ma l'ho sentito ritirare da uno che non sta bene soprattutto ma ragazzi ma come si fa a criticare turam ma siamo pazzi un giocatore lamorosso turam come si fa ieri ha sbagliato tanto ma anche lui viene da un infortunio e non è non è in forma si vede quei quindici venti giorni è stato fermo sicuramente a livello fisico hanno influito a livello di condizione fisica hanno influito quindi l'inter ha degli attaccanti atipici che per fare i gol che fa un nove puro che ne so un militio unicardi unizzaghi questi nove questi vecchi centramanti devono lavorare tantissimo ma è anche vero che il calcio si è evoluto non esiste più centramanti boe sta lì fermo a boom boom a finalizzare basta c'è la fase difensiva c'è il fare densità centro campo da una mano allacciare riallacciare il gioco tra reparti cioè ci sono molte più cose oggi un attaccante deve fare secondo me nelle ultime due partite per come la vedo io e concludo il video c'è mancato anche carlos augusto soprattutto per la fase difensiva sia all'atletico madrid e sia ieri sera anche perché di marco è un grandissimo giocatore quando devi tenere la palla dall'altra parte quando devi proporti devi proporre ma in fase difensiva ha molte lacune di marco ecco che in certi contesti di partita serviva carlos augusto soprattutto contro l'atletico secondo me io ti dico se avessimo avuto carlos augusto saremmo passati ma avremmo avuto più chance per come la vedo io facendolo entrare nell'ultima mezz'ora anche ieri uguale stessa niente a osa ti manca secondo me un giocatore come carlos augusto veniamo ai due ragazzi più che non più che non è tutelato dall'allenatore perché perché se soffia la tramontana vola in terra non non rende contrasti non è riuscito ad andare via nemmeno in velocità lo hai capito perché non gioca ora perché ancora non è pronto ecco perché in zaghi non lo fa giocare no perché è pazzo bisse che lo stecco lo stesso bisse che se non ha un dalmian dietro gli copri le spalle in fase difensiva non va bene dura fatica anche Pavard in fase difensiva contro certi giocatori quindi di cosa ragioniamo lo vedi il discorso del campionato scarso e concludo il video concentrati lo vedi il discorso di tutti di tutti quegli imbecilli che dicono che la serie a è un campionato scarso con certi attaccanti in italia dura fatica anche Pavard dura fatica anche Pavard con certi attaccanti in italia questo ti dimostra che non è un campionato scarso che in fase difensiva come ti ho detto ieri è ancora tra i primi campionati al mondo come tattica è ancora tra i primi campionati al mondo quindi non è così scarso il campionato di serie a perché lo sta vincendo l'inter sta diventando scarso quindi sia Buchanan che bisse che sono due ragazzi che sicuramente si faranno che diventeranno spero degli ottimi giocatori ma è chiaro ad oggi a certi livelli non sono pronti e sono tutelati dall'allenatore ecco perché li vedi poco in campo perché poi alla fine ragazzi quello che giudica è proprio lui il campo di calcio ciao a vittorio a vittorio a vittorio